buon pomeriggio a tutti professoressa c'è sì ci sono eccomi salve buon pomeriggio a tutti benvenuti al decimo seminario di seminari contagiosi oggi avremo la nostra professoressa aliana carnevali che parlerà appunto di environmental endocrine disrupting chemicals acdc a treat to wildfire and human health e speriamo vi piaccia lascio la parola alla professoressa e buona visione grazie infinite fiorenza io vorrei intanto ringraziare non solo fiorenza ma anche le altre organizzatrici di questi seminari contagiosi un'idea veramente bella che ci consente di stare vicini seppur lontani quindi grazie ancora per tante ragioni perché oltre al fatto che abbiamo bisogno di dialogare con i nostri studenti e voi probabilmente con i vostri docenti ci dà anche l'opportunità di comunicare cosa stiamo facendo nei nostri laboratori ovviamente questo è un seminario divulgativo quindi non entrerò più di tanto nei meccanismi molecolari e comunque do un'idea di quello che stiamo facendo poi ovviamente sono a disposizione per eventuali domande più tecnico più concettuali allora io se posso iniziare condivido lo schermo vedete il mio schermo sì professoressa lo vediamo vediamo la presentazione proprio a schermo intero perfetto grazie quindi iniziamo noi ci occupiamo da tanti anni degli effetti degli interferenti endocrini per quanto riguarda la diciamo gli effetti che questi possono avere sia in organismi diciamo acquatici quello che accade normalmente in natura ma più recentemente anche nell'uomo quindi io voglio iniziare questo seminario da una considerazione filosofica allora noi dovremmo considerare che lo stato attuale del nostro ambiente non è altro che l'effetto del passato e la causa del futuro questo è un concetto molto vecchio ma assolutamente attuale e se riuscissimo a fare nostro questo concetto sicuramente il nostro ambiente migliorerà in futuro e potremmo lasciare ai nostri figli un ambiente migliore di quanto abbiamo trovato al momento pare però che questa diciamo consapevolezza non ci sia infatti pensando alle plastiche noi vediamo che queste sono presenti ovunque nel fondale dei nostri mari ma anche sulle alte vette sugli 8 mila metri troviamo quantità di plastica impressionante come mostrano queste immagini ed è globale questa situazione dall'artico all'antartide troviamo situazioni analoghe questa è molto suggestiva come immagine non è altro che un gyre nel bel mezzo dell'oceano e quindi le correnti oceanografiche muovono queste plastiche fino a formare delle isole dovremmo capire una cosa estremamente importante che tutto quello che va nei nostri mari nei nostri oceani ci torna indietro quindi questo può può avere un effetto negativo sul benessere e sulla salute sia degli organismi selvatici che dell'uomo quindi sappiamo che l'ambiente è contaminato e in particolare focalizzando sulle plastiche noi sappiamo che tutte quelle proprietà che rendono le plastiche che usiamo eccezionali dal punto di vista delle loro performance sono dovute alla presenza di plastificanti che danno proprio queste caratteristiche possiamo farli assumere qualsiasi forma sono più o meno morbide ma purtroppo diciamo le plastiche non sono altro che dei polimeri legati da queste sostanze chimiche che noi chiamiamo plastificanti e nel corso però del tempo le plastiche degradano e questi plastificanti vengono rilasciati nell'ambiente e possono interferire con il sistema endocrino ovvero tutte quelle ghiandole che producono segnali che regolano tutti i processi fisiologici di qualsiasi organismo e si comportano quindi come distruttori endocrini qui vediamo la definizione di distruttore endocrino è una sostanza esogena o un mix di sostanze esogene che possono interferire con la salute dell'uomo in organismi intatti e nella loro progenie ma addirittura a livello di popolazione interagendo con il sistema endocrino come fanno ad avere diciamo questo effetto così dannoso perché vengono riconosciuti dai recettori all'interno delle cellule delle varie ghiandole endocrine e quindi vanno ad alterare la risposta cellulare qui vediamo due esempi opposti l'interferente endocrino che lega il recettore e lo mima quindi si avrà una risposta cellulare anche se il segnale endogeno non c'è quindi avremo un'alterazione delle funzioni normalmente svolte da questa cellula oppure potrà legarsi al recettore impedendo che lo faccia l'ormone endogeno bloccando quindi l'effetto dell'ormone naturale e quindi la nostra cellula non risponde un esempio di interferente endocrino è rappresentato dal DDT voi quando siete nati già il DDT non veniva più prodotto però sicuramente lo avete già sentito nominare veniva utilizzato come insetticida la prima volta che è stato sintetizzato era il 1874 se ne scoprì dopo molti anni gli effetti negativi e nel 1972 dall'Agenzia della protezione ambientale americana è stato bandito quindi non può essere più prodotto dalle aziende chimiche nonostante tutto noi ci siamo esposti per oltre 100 anni all'effetto di questa sostanza non solo se noi andiamo a cercare il DDT o i metaboliti di questa molecola li troviamo ancora distribuiti diciamo fino in Antartide quindi gli effetti sono ancora presenti e ci stiamo ancora esponendo a questa sostanza ma le fonti di questi contaminanti sono veramente tante ragazzi abbiamo tutta una serie di prodotti farmaceutici che si comportano come distruttori endocrini molti conservanti alimentari moltissimi prodotti per la cura personale contengono all'interno sostanze che mimano l'effetto di ormoni inoltre le plastiche le abbiamo già accennate in particolare gli iftalati che sono presenti in tantissimi oggetti che noi utilizziamo giornalmente il BPA, i bisfenoli che troviamo per esempio quando andiamo dal dentista per curare i denti usano delle resine i dentisti che rilasciano BPA ma la cosa più semplice andando al supermercato e comprando del cibo in scatola quello smalto che noi serviamo sulla scatola dei legumi per esempio rilascia BPA ma le stesse vernici o pesticidi ma anche tutta una serie di solventi che vengono utilizzate nella produzione dei mobili e quant'altro rilasciano sostanze di questo tipo quindi capiamo subito che noi non riusciamo a proteggerci dagli interferenti endocrini da queste sostanze che utilizziamo comunemente durante la giornata questi distruttori endocrini sono stati classificati io qui riporto solo quattro categorie ma sappiamo che interferiscono anche con la tiroide quindi ci sono anche altre famiglie di distruttori endocrini ma ci interessano prevalentemente questi perché il nostro approccio è prevalentemente legato alla riproduzione e al metabolismo e in questo caso vediamo che gli interferenti endocrini sono stati classificati come estrogenici un esempio è il BPA antiestrogenici abbiamo per esempio anche delle sostanze naturali flavonoidi che fanno molto bene perché riducono lo stress ossidativo ma possono essere antiestrogenici in alcuni casi oppure gli interferenti endocrini possono essere antiandrogenici tra questi troviamo un fungicida il viclozolin che è molto usato e quindi residui di viclozolin li troviamo comunemente nella frutta che mangiamo e negli ortaggi ma anche uno ftalato il diiso non è il ftalato quindi questo ha un effetto antiandrogenico poi abbiamo tutta una serie di progestinici che normalmente vengono utilizzati nella contraccezione quindi nel nostro caso ci siamo interessati dell'effetto di una sostanza estrogenosimile il bisfenolo A questa è la formula del bisfenolo A è uno tra i più sintetizzati quindi più presenti nel mondo della chimica e quindi nell'ambiente viene utilizzato per realizzare resine di policarbonato e ipostiliche ed è nota la sua attività estrogenica l'altro inquinante che ha attratto la nostra curiosità è il diso non il ftalato è stato utilizzato recentemente per sostituire un altro ftalato il dietilexilftalato perché questo ftalato era stato riconosciuto come interferente endocrino quindi è stato sostituito con il DNP viene utilizzato anche esso tanto perché fa parte diciamo dei prodotti all'interno del PVC e è stata ipotizzata un'attività antiandrogenica quindi c'è stata la sostituzione di uno ftalato con un altro ma senza tener conto degli effetti endocrini che questo secondo ftalato ha sul benessere e sulla salute degli organismi andiamo a vedere insieme tra un attimo gli effetti che noi abbiamo osservato nei nostri modelli sperimentali quindi per quanto riguarda la ricerca condotta nel laboratorio di biologia della riproduzione e dello sviluppo siamo andati a vedere che cosa accade in presenza di BPA e DNP a livello del metabolismo lipidico e della riproduzione questo in organismi acquatici inoltre ci siamo anche chiesti se questa esposizione potesse avere un effetto transgenerazionale e quindi se io espongo attraverso una via materna la femmina a BPA andiamo a vedere nelle generazioni successive se ci sono degli effetti legati a questa esposizione dopo vedremo come e quindi arrivando come potete vedere da questa immagine alla terza generazione quindi ad embrioni della F3 il modo di esposizione è molto diverso perché possiamo esporci o attraverso l'acqua in questo caso negli organismi acquatici c'è un'esposizione cronica diciamo che è quella che impatta di più oppure attraverso la dieta o respirando come nel nostro caso o attraverso l'epidermide quindi modi per esporci a queste sostanze ne abbiamo veramente tanti nei nostri esperimenti abbiamo utilizzato due diverse vie di esposizione via acqua e via dieta e abbiamo utilizzato due modelli sperimentali diversi lo zebrafish è un modello fantastico in questo caso abbiamo utilizzato la via dell'acqua per esporre i nostri organismi e quindi sono stati esposti a dosi di rilevanza ambientale che cosa vuol dire questo? che abbiamo utilizzato dosi che comunemente troviamo nell'ambiente quindi il dato che andremo ad osservare ci dice quanto effettivamente questi inquinanti possono impattare la vita degli organismi acquatici nel caso dell'orata un organismo marino invece abbiamo utilizzato come via di somministrazione la dieta in questo caso abbiamo utilizzato due dosi diverse una dose ambientale per il BPA è una dose molto elevata proprio per vedere che cosa accade quando si va oltre scala la stessa cosa per il DNP una dose ambientale è una dose estremamente elevata allora la prima indagine che abbiamo condotto volendo analizzare l'effetto sul metabolismo è stata un'analisi morfologica a livello epatico e vedete già da soli semplicemente dal colore che gli animali questo è il controllo e via via le dosi crescenti di isononilftalato vediamo che la struttura del fegato cambia radicalmente e vediamo che aumenta la quantità di lipidi presenti nel fegato questo dato ci è stato confermato non solo dall'area che occupano i lipidi a livello del tessuto ma anche da un'analisi di spettroscopia infrarossi all'OFTIR che ci consente di quantificare le macromolecole all'interno del tessuto e vediamo come questo cambiamento di colore che di fatto è associato a concentrazioni via via maggiori di lipidi quindi il controllo ha una colorazione verde man mano che saliamo i colori via via più caldi sono quelli più ricchi di lipidi e quindi capiamo subito che c'è stata che c'è una steatosi epatica quindi abbiamo un fegato che accumula lipidi questo nello zebrafish analoga storia nell'orata quindi anche un organismo marino risponde alla presenza di questi interferenti endocrini con un aumento di lipidi a livello epatico sia con il BPA che con il DNP osserviamo esattamente la stessa cosa c'è un aumento sia di lipidi che di acidi grassi come possiamo vedere dall'immagine riportata qui sotto questo effetto che noi osserviamo è dovuto a che cosa? a un'alterazione della trascrizione genica di tutti quei geni che sono coinvolti nel metabolismo lipidico o a modificazioni che avvengono successivamente per questo abbiamo fatto un'analisi di trascrittomica e siamo andati ad indagare tanti geni come vedete da questa immagine coinvolti nella sintesi e nella degradazione dei trigliceridi nella formazione delle gocce lipidiche nell'omeostasi del colesterolo nella sintesi dei lipidi io qui non entro in merito di tutti i geni però con lettere diverse rappresentiamo differenze statisticamente significative e vedete che gran parte dei geni che abbiamo analizzato presentano delle differenze significative segno che in questo caso abbiamo il BPA ha un'azione diretta sulla trascrizione genica quindi è un'azione che viene esercitata a monte circa cinque anni fa noi abbiamo proposto un nuovo target per gli interferenti endocrini il sistema endocannabinoide il sistema endocannabinoide è molto importante perché interviene in tanti processi fisiologici rilevanti sicuramente il sistema immunitario ma anche tutto il sistema riproduttivo e ha un ruolo molto importante nel metabolismo il sistema endocannabinoide è costituito a tutta una serie di endocannabinoide endogeni l'anandamide e il 2AG per esempio ed altri minoritari che intervengono in questi processi e come possiamo osservare da questa tabella abbiamo visto che in presenza di BPA i livelli degli endocannabinoidi endogeni variano e vediamo che si ha una riduzione di questi livelli sia per quanto riguarda il 2AG che per quanto riguarda l'anandamide questa riduzione è legata la faccio breve ad un aumento di trascrizione di un gene che codifica per un enzima che utilizza come substrato proprio questi endocannabinoide questa enzima si chiama FA e vediamo che la sua espressione è significativamente aumentata dalla presenza di BPA quindi abbiamo una chiara evidenza del fatto che il sistema endocannabinoide può essere compromesso dalla presenza di interferenti endocrini di questi risultati si è recentemente occupata una rivista online americana che ha praticamente raccontato i nostri risultati noi abbiamo pubblicato diversi lavori sull'effetto sia del DNP che del BPA sul sistema endocannabinoide e quindi per chi volesse saperne di più qui è riportato il sito che racconta tutta la storia presentata da questo giornalista californiano che mette in evidenza proprio che il sistema cannabinoide è un nuovo target per quanto riguarda alcuni distruttori endocrini vediamo poi che queste sostanze possono agire anche sul controllo dell'appetito e qui vediamo da un punto di vista molecolare che sostanze orressizzanti vengono apregolate per esempio dal BPA e quindi potremmo parlare di un effetto obesogenico di questi contaminanti proprio perché sono in grado di regolare non solo il metabolismo lipidico ma anche il controllo della fame per concludere per quanto riguarda l'effetto sul metabolismo possiamo dire che il BPA il DNP altera i processi metabolici in particolare legati al metabolismo lipidico e porta a un aumento di grasso epatico e quindi a una steatosi epatica oltre ad agire come abbiamo visto a livello del sistema endocannabinoide questa è una heat map ovvero vengono riportate le espressioni dei vari geni rispetto al controllo alcuni sono down regolati quelli in verde vediamo che esprime un numero negativo altri invece vengono up regolati e sono quelli in rosso e come possiamo vedere sia il BPA che il DNP in questo caso stiamo parlando dell'orata quindi una specie marina vediamo che rispetto al controllo le diverse concentrazioni di inquinante possono portare a un up o a una down regolazione io vorrei farvi notare una cosa che molto spesso non c'è una dose risposta quindi non è che possiamo ipotizzare che una concentrazione maggiore porta a un effetto fisiologico maggiore spessissimo con gli interferenti endocrini noi abbiamo una risposta non monotonica si dice così quando non è dose dipendente questo complica notevolmente lo studio perché per essere certi che quella dose non sia dannosa dobbiamo testarla direttamente perché non possiamo estrapolare nessun effetto fisiologico basandoci su dosi già testate quindi questo è di fondamentale importanza l'industria chimica lo sa molto bene questo tant'è vero che ha sempre suggerito di testare dosi alte molto spesso le dosi alte sono meno dannose delle dosi basse ma noi questo ormai l'abbiamo capito e quindi stiamo dicendo con gran forza che vanno testate tante dosi diverse perché la risposta non è monotonica ok allora adesso passiamo a un altro aspetto a noi molto caro che è quello della riproduzione qui vediamo gli effetti dell'oftalato del diso non intalato sullo zebrafish vediamo subito che la fecondità diminuisce come mostra questo grafico e in questo caso vediamo addirittura cinque diverse concentrazioni sono state testate la cosa interessante è una curva a campana come potete vedere proprio a dimostrazione del fatto che non è dose dipendente le dosi più dannose in questo caso sono per la fertilità la dose più bassa e la dose più alta e oltre a questa diminuzione di produzione di ociti abbiamo anche una riduzione del peso della gonade sia dell'ovario che del testicolo e questa riduzione è significativa se andiamo a studiare gli effetti del disono niftalato nella gonade maschile femminile di Danio Rerio di zebrafish vediamo che anche in questo caso si ha un effetto sul sistema endocannabinoide e il sistema endocannabinoide nella riproduzione è molto importante ed è stato messo in evidenza proprio nei mammiferi più che nei bassi vertebrati quindi la presenza di endocannabinoidi è di fondamentale importanza per un corretto svolgimento del ciclo riproduttivo e quindi un'alterazione ci fa ipotizzare che sia coinvolto anche in questa diminuzione di fertilità che noi abbiamo osservato dal punto di vista fisiologico se andiamo ad analizzare il tessuto ovarico troveremo delle differenze nella composizione di questo quindi il numero di oociti pronti diciamo ad essere maturati diminuisce in presenza di isononiftalato quindi abbiamo un effetto negativo sia sulla gametogenesi che sulla maturazione degli oociti la stessa cosa la possiamo osservare nell'orata l'orata è una specie particolare perché è un'ermafrodita proterandra ovvero se noi andiamo ad analizzare la gonade delle orate che normalmente troviamo a tavola quelle che compriamo al mercato questa gonade è costituita vedete in questa parte chiara è il testicolo e sopra al testicolo osserviamo invece un ovario ma è un ovario non funzionale infatti lo potete vedere dall'analisi istologica questa è la parte dell'ovario che è diciamo costituito da ogoni o ucciti previtellogenici e questa invece è la parte testicolare il testicolo invece è funzionale ok quando noi esponiamo l'orata a disonon inftalato questo è il controllo e questo invece è il testicolo delle orate esposte a dosi più basse e più elevate di disonon inftalato e vediamo che la morfologia cambia in maniera sostanziale questo cambiamento è associato anche a una variazione dei livelli degli ormoni steroidei sessuali vediamo che c'è un aumento dell'estradiolo e una diminuzione degli androgeni in particolare dell'11 ketotestosterone che è il responsabile della gametogenesi maschile nei pesci quindi tutto questo ci fa pensare che ci sia un problema di riproduzione importante anche nell'orata ancora una volta il sistema endocannabinoide subisce delle forti variazioni in seguito ad esposizione a questo inquinante risultati piuttosto simili li osserviamo anche con l'esposizione A al BPA anche qui vediamo che con la dose più alta si ha una riduzione dell'11 ketotestosterone in questo caso abbiamo fatto anche le prove di qualità spermatiche e vediamo che la durata della motilità in animali esposti a dosi elevate di BPA è minore quindi c'è anche un peggioramento della qualità spermatica ma diciamo risultati preoccupanti li abbiamo ottenuti anche nello zebrafish dove vediamo tutta una serie di variazioni a livello morfologico associate vedete a una riduzione del numero di spermatogoni presenti all'interno della gonade la risposta dell'ovario e del testicolo alle due diverse dosi di BPA ci fa vedere che la risposta è sesso specifica quindi in alcuni casi vediamo che nell'ovario si ha un'up regolazione vedete nel testicolo invece si ha una down regolazione ma questo diciamo non sorprende perché fa parte della nostra ipotesi di lavoro è un antiestrogenico per cui scusate è un estrogenico per cui non può avere ovviamente lo stesso ruolo nell'ovario e nel testicolo dove estrogeni e androgeni operano in maniera opposta che sia un estrogenico il BPA ce lo dice anche la presenza di una marcatore di estrogenicità ovvero la presenza di RNA messaggero per una proteina sesso specifica la vitellogenina ovvero il precursore delle proteine del tuorlo che serviranno per lo sviluppo embrionale diciamo che questo è il test ufficiale per dire se una sostanza è estrogenica è riconosciuto a livello internazionale come test sia per quanto riguarda l'espressione genica che della sintesi proteica quando troviamo la presenza di RNA messaggero o proteina per la vitellogenina nei maschi noi possiamo dire senza ombra di dubbio che abbiamo una presenza di interferenti endocrini estrogenosimili quindi in questo caso abbiamo confermato l'estrogenicità del BPA all'interno del nel nostro modello sperimentale sempre nello zebrafish vediamo che l'esposizione al BPA causa un'alterazione a livello morfologico e anche qui si ha questo aumento di oociti vitellogenici ma oltre a questo la cosa che più ci preoccupa il BPA aumenta l'apoptosi follicolare quindi un numero elevato di oociti vanno incontro ad apoptosi tutto questo ci ha fatto poi porre un'altra domanda l'effetto che noi vediamo è relativo a diciamo la generazione che si è esposta oppure possiamo ipotizzare un'azione anche sulle generazioni successive ed è quello che siamo andati a studiare quindi abbiamo esposto femmine di zebrafish alla BPA il maschio era un maschio di controllo e abbiamo avuto quindi questa è la femmina F0 abbiamo avuto la prima generazione F1 che derivava da un maschio di controllo e una femmina esposta a BPA quindi la generazione F1 ha raggiunto la maturità sessuale abbiamo analizzato la femmina F1 matura e l'abbiamo anche incrociata con un maschio di controllo abbiamo ottenuto la seconda la generazione F2 embrionale cresciuta la femmina F2 è stata analizzata e incrociata comunque con un maschio di controllo e da cui abbiamo ottenuto l'F3 per cui noi siamo andati successivamente ad analizzare tutta una serie di biomarker nella F0 F1 F2 e negli embrioni F1 F2 ed F3 e che cosa abbiamo visto l'indice gonadosomatico nella F2 è significativamente più basso la fertilità è più bassa di oltre il 50% e analizzando tutta una serie di geni sono tantissimi quindi guardiamo solo questa riga ovvero siamo andati ad analizzare l'antimullerian hormon questo è un segnale molto importante che conosciamo sia perché è coinvolto nella determinazione sessuale ma anche per i ragazzi della magistrale sanno benissimo che è un marcatore della riserva ovarica quindi è un segnale veramente importante nell'ambito della riproduzione che cosa potete osservare da questa da questa riga che a parte l'F0 per quanto riguarda dalla F1 fino alla F3 embrionale l'antimullerian hormon viene downregolato quindi la trascrizione di questo gene viene ridotta dalla presenza di BPA allora ci siamo chiesti ok questa riduzione della trascrizione del BPA a che cosa è dovuta? a una metilazione del promotore quindi attraverso il pirosequenziamento siamo andati ad indagare il grado di metilazione al livello dei tre siti di inizio della trascrizione delle gene dell'antimullerian hormon e vediamo che a parte l'F0 che andava un po' diciamo in controcorrente per quanto riguarda l'F1 fino all'F3 embrionale abbiamo sempre un aumento di metilazione del siti di inizio della trascrizione del gene dell'antimullerian hormon quindi abbiamo una trasmissione stabile dell'ipermetilazione di questo gene che cosa possiamo concludere dai dati ottenuti in laboratorio che sia il BPA quindi che questo talato che è andato a sostituirne un altro sembrava essere pericoloso ma forse anche quello che abbiamo utilizzato per sostituirlo non è che sia poi così salutare come abbiamo potuto vedere entrambi possono agire sul sistema endocannabinoide possono alterare il metabolismo lipidico e i processi riproduttivi l'altra cosa che ci preoccupa è questa trasmissione stabile dell'ipermetilazione dell'antimullerian hormon che avrà sicuramente delle ripercussioni vi ricordo che zebrafish abbiamo detto ha una altissima sintonia con con l'uomo per cui sarebbe interessante vedere una relazione tra i livelli di BPA nell'uomo e l'espressione dell'antimullerian hormon visto che anche nell'uomo problemi di fertilità diventano sempre più elevati che cosa possiamo concludere da questa prima parte del nostro seminario che ovviamente il nostro stile di vita può compromettere in maniera seria la salute e i processi riproduttivi delle specie acquatiche quindi dobbiamo riflettere su questo passiamo ora diciamo all'uomo nel 2012 la World Health Organization ha pubblicato un report per quanto riguarda i distruttori endocrini e l'ha fatto dopo dieci anni perché il primo report fu pubblicato nel 2002 e qui vediamo che sono state individuate tutta una serie di diciamo cause effetto legate alla presenza di interferenti endocrini quindi l'insorgenza di obesità di diabete di alterazione dello sviluppo fetale di alterazioni del ciclo riproduttivo del comportamento un aumento dell'infertilità e anche diciamo un una elevata perdita di fecondità ma perché aumenta il numero degli aborti e anche i parti pretermine inoltre abbiamo anche uno sviluppo alterato delle gonadi e anche patologie come l'insorgenza di neoplasie nell'uomo questi dati non sono per niente confortanti e qui possiamo osservare che da uno studio condotto negli Stati Uniti vediamo come 9 americani su 10 presentano nei loro fluidi corpori BPA la stessa diciamo preoccupazione è relativa alle donne incinte che presentano livelli di estalati e ritardanti di fiamma nel 99% delle donne incinte la cosa che a me è sembrata diciamo ancora più preoccupante è il fatto che a livello del cordone ombelicale quindi del sangue che troviamo a livello del cordone siano stati identificati 232 sostanze chimiche la domanda che ci siamo posti a questo punto è possono gli interferenti endocrini attraversare la placenta questa è la placenta questo è il cordone ombelicale quindi sembrerebbe di sì perché noi troviamo interferenti endocrini a livello del sangue nel cordone ombelicale e sempre da questo report del 2012 si evince che la presenza di questi interferenti endocrini possono causare problemi di salute nei bambini quindi sono state identificate tutta una serie di patologie legate a queste sostanze per esempio il criptorchidismo la non discesa del testicolo l'ipospadia dopo vedremo delle immagini una serie di alterazioni dello sperma una pubertà precoce la presenza poi nella fase adulta di un ovario policistico si possono poi avere parti pretermine un numero più elevato di aborti si ha anche un maggior numero di gravidanze ectopiche problemi di ipo ipertiroidismo problemi di preclamia per quanto riguarda la donna incinta un'alterazione del peso del feto e disordini a livello del comportamento nervoso si è anche visto che la presenza di interferenti endocrini è in grado di riprogrammare la dipogenesi e questo può causare obesità negli adulti e qui vediamo un bambino asiatico con diciamo problemi molto seri di obesità per quanto riguarda l'azione degli interferenti endocrini sicuramente è da considerarsi bidirezionale perché da una parte abbiamo effetti sulla madre e dall'altra effetti sul feto oltre alla preclampsia quindi abbiamo questi edemi proteinuria e ipertensione nella madre abbiamo anche un aumento del peso dell'utero e una deficienza nella vitamina D e questo spesso è associato anche a un aumento del numero degli aborti per quanto riguarda il feto si può avere parti pretermine e abbiamo dell'ipogonadismo quindi una scarso sviluppo della gonade e a seconda dell'inquinante possiamo avere un aumento o una diminuzione del peso del feto e questo è diciamo quello che accade per quanto riguarda uno ftalato e dei surfattanti vediamo come la dimensione del feto sia enormemente aumentata in relazione alla presenza di questi inquinanti chimici prima abbiamo parlato di ipospadia qui vediamo diversi gradi di ipospadia sempre legati alla presenza di distruttori endocrini all'esposizione materna di distruttori endocrini quindi abbiamo diciamo danni via via sempre più seri recentemente si è anche associata la presenza di ftalati e BPA nella cioè un'esposizione prenatale a BPA e ftalati in associazione con disturbi nel comportamento quindi l'iperattività un deficit di attenzione ma anche problemi dal punto di vista emozionale possono essere riscontrati in bambini dai 3 ai 5 anni laddove ci sia stata esposizione a questi inquinanti noi sappiamo che la riproduzione è sotto il controllo dell'asse ipotalamo ipofisi gonade e a livello ipotalamico abbiamo un segnale molto importante che è il GNRH che regola all'espressione delle gonadotropine ipofisarie le quali sono poi responsabili del controllo dell'asteroidogenesi gonadica l'esposizione a interferenti endocrini possono avere un effetto negativo sulla fertilità femminile e vediamo per esempio come l'esposizione a BPA possa influire sull'assecrezione del GNRH e quindi sul rilascio di LH ed FSH a livello ovarico si è visto che si ha una riduzione del peso dell'ovario e anche dello sviluppo follicolare con associata spesso anche un'atresia ovarica e un'alterazione della produzione degli ormoni steroidei sessuali e questo può portare in molti casi alla comparsa di un ovario policistico adesso ci torneremo tra un attimo e anche quindi a un'atrofia dell'ovario e a una menopausa precoce gli effetti degli interferenti endocrini possono essere riscontrati anche a livello dell'utero con diciamo un'alterazione del suo peso la comparsa di fibroidi una riduzione del miometrio e questo può compromettere l'impianto embrionale ma in alcuni casi si può anche osservare una diciamo endometriosi con effetti più o meno gravi per quanto riguarda il ruolo del BPA nella sindrome dell'ovario policistico il BPA l'abbiamo già detto è una componente presente ovunque e quindi è tra gli interferenti endocrini più temuti e questo vediamo che ha un'azione per quanto riguarda la steroidogenesi ovarica porta a un aumento di testosterone e di estrogeni e una riduzione di progesterone l'aumento di androgeni portano a una resistenza dell'insulina a un'insorgenza dell'obesità e spesso questi sono associati anche a una peluria a un irsudismo tipico di donne con diciamo con questa sindrome dell'ovario policistico la presenza di acne un ciclo riproduttivo un ciclo mestruale irregolare e un ovario cistico come ci può far vedere queste immagini e tutto questo porta a problemi di infertilità quindi il messaggio che dovremmo portare a casa da questa chiacchierata diciamo il nostro stile di vita è importante è importante soprattutto perché con uno stile corretto noi possiamo proteggere i nostri figli dalla presenza di distruttori endocrini concludo dicendo che sicuramente meno plastiche più futuro e la facoltà di scienze ha tutte le competenze per dare soluzioni per ridurre gli effetti di queste sostanze ma soprattutto capire quali sono i danni che queste arrecano abbiamo visto alla salute e alla fertilità dei diversi organismi questi studi sono stati condotti all'interno del mio laboratorio in particolare abbiamo Isa Isabella Forner e Francesca Maradonna la nostra tossicologa ma con il contributo anche di tutti gli altri del nostro gruppo la partecipazione della professoressa Giorgini che invece è un'esperta di analisi macromolecolari e la collaborazione con tanti gruppi stranieri per quanto riguarda il sistema endocannabinoide il dottor Vincenzo Di Marzo che è diciamo l'esperto a livello mondiale di questo sistema e il collega dell'Università di Calgari Amit Abibi che invece è un tossicologo della riproduzione come noi grazie per l'attenzione Grazie